le prime informazioni sulla chiesa di san giovanni battista remole risalgono al 935 da allora la chiesa è sempre stato uno dei punti di riferimento più importanti per la comunità ponta sevese le affascinanti mura della chiesa raccontano oltre mille anni di storia fiorentina durante le lotte del 1300 tra guelfi neri e bianchi corso donati scelse san giovanni battista come punto di ritrovo per le sue truppe riuscendo ad impedire il rientro a firenze dei soldati appartenenti alla famiglia rivale dei cerchi nel 1740 una disastrosa alluvione provocò notevoli danni alla chiesa tanto che la strada principale che un tempo passava di fronte al portone venne fatta passare dietro l'abside attualmente la snella di elegante torre campanaria è costituita da sei piani di aperture monofore e bifore la chiesa al suo interno presenta un fonte battesimale in marmi policromi datato 1753 cinto da una balaustra in pietra serena del quindicesimo secolo dietro alla quale è posto una terracotta in vetriata